intanto ringrazio subito max casacci di aver accettato questo invito essere qui con noi sono lusingato è la prima volta che parliamo pubblicamente davanti a qualcuna e non via whatsapp no e io ringrazio te per l'invito che avrei assolutamente cioè sarei venuto in ogni caso ma a maggior ragione perché ci troviamo di fronte ad un album che ho percepito dal primo ascolto un album importante quindi a maggior ragione sono lusingato e contento di di essere qui per quello che come tutti sappiamo è il secondo album di di vasco brondi ed è io l'ho percepito racconto subito quella che è stata la prima impressione come un album dove la anche la solidità della scrittura dal punto di vista melodico in parte mi ha mi ha sorpreso e parliamo comunque di ariosità e solità melodica sempre impastata con la pasta abrasiva che poi anche può la magia della della musica dai tempi della della centrale elettrica sempre comunque con delle delle metriche sfocate sempre comunque con qualche con qualche cosa che arriva ad insidiare tutta la tutta una struttura però che che questo punto che questo caso c'è che che fa sì che queste canzoni possano rispondere a quelle cose che ogni tanto noi chiediamo alle canzoni cioè di poter essere anche cantate non so solo se sei il cantante ma anche se sei l'ascoltatore che è una cosa bellissima secondo me io nonostante suoni da tempo e produca un gruppo un gruppo pop o dei percorsi che che viaggiano in altre direzioni dove non sempre la melodia è così importante però c'è questa cosa della canzone che poi alla fine tutti quanti noi amiamo che quando comunque ci ci smuove quando comunque ci fa cantare anche a squarciagola quando ci strappa anche qualche lacrima non è detto che sia una cosa una cosa così negativa così compromettente come pensavamo negli anni 90 e la prima domanda che ti faccio relativamente a il cambio di scenario fra gli anni 90 tu sei stato forse probabilmente il primo protagonista di quella che sembrava essere un po la stagione del non si esce vivi dagli anni 90 sembrava che solo i gruppi della mia generazione fossero quelli in grado di riempire gli spazi e tu sei stata forse una delle prime voci a dire ad affermare fatto che ci fosse un'altra generazione che stava per arrivare però rispetto a quegli scenari dove sembrava quasi che la semplice attitudine alla musica fosse sufficiente qui c'è proprio una costruzione diversa in un mondo che è cambiato tante volte e che oggi ci presenta una generazione di musicisti di cantanti forse o meno di band molto attratte dalla forma canzone da una forma canzone che è molto compressa compatta molto esplosiva che che in qualche modo entra in un formato che quello di album dove c'è un singolo e tanti tentativi di singoli e questa cosa ha cambiato un po i paradigmi no della musica anche di come si valuta la musica oggi chiaramente noi possiamo anche guardare con una punta di a volte di snobismo anche se sempre sbagliato nei confronti della musica rispetto ai nostri mondi di provenienza prima ancora che da musicisti da ascoltatori però questa cosa forse pone anche delle sfide cioè il fatto che oggi si si debba in qualche modo esprimere in un formato di canzone che abbia in qualche modo una sua solidità una sua tridimensionalità proprio melodica e secondo me una sfida alla quale tu hai risposto molto bene e l'hai sentita in questi termini guarda ti ringrazio moltissimo di questa riflessione perché dai parole a una a qualcosa che mi lavorava dentro come quei canali che ci sono a ferrara che l'inverno sono ghiacciati in superficie ma sotto si muovono e di cui non ero totalmente consapevole nel senso che io sentivo una idea di sfida cioè e quindi è la prima volta che l'ho esplicito così che adesso capisco da dove arriva ed evidentemente era da questa cosa qua un po mette in luce il fatto che anche dopo 15 anni che faccio dischi non ho il controllo di quello che faccio no in una canzone c'è non decidi tu i tuoi desideri ecco forse uno non decide del tutto neanche le canzoni che uno fa e però sono arrivato a questo punto che la cosa che mi faceva fare le scintille nell'idea di mettermi a fare un disco nuovo era sperimentare con la forma canzone una cosa che paradossalmente per me era la cosa più sperimentale che potevo fare in quel momento lì con la forma canzone classica e poi mi è venuto naturale quando ho visto che uscivano delle canzoni così anche con una sonorità che era più pop ed era il contrario del disco che ho fatto precedente addirittura più contrario di altri miei più passati perché quello precedente tra l'altro la prima canzone era questa canzone si chiama chitarra nera che è sette minuti di parlato su dei degli strumenti fantasma dove tutto è nascosto praticamente qui niente è nascosto quindi da una parte c'è questa direzione che ogni disco togliere uno strato in più arrivare sempre più nel profondo avvicinarsi al nucleo incandescente della terra o di o di me stesso dall'altro vedere cosa succedeva con quello che scrivevo se lo provavo a mettere in un confine prestabilito ed è la prima volta che scrivo un disco in cui tutte le canzoni sono sostanzialmente strofa ritornello strofa ritornello bridge ritornello doppio praticamente c'è qualche variante ma è la prima volta da una parte per arrivarci e per semplificare le cose c'è stato un lavoro in più i miei amici che con cui ho lavorato mi dicono tutti non lo sanno ma è un tuo best of questo perché in tre anni avevo scritto così tanti pezzi alcuni non portati neanche alla fino alla fine altri portati fino alla fine registrati e anche mixati e poi tolti per tenere queste dieci che è proprio il minimo quindi in questo senso è un best of e in un certo senso e in questo senso anche si misura forse con questa sfida che dicevi tu e che io sentivo nell'aria non essendo neanche non per snobismo ma forse per perché uno è orientato alle cose che lo attraggono di più non sono particolarmente sul pezzo con quello che esce musicalmente io devo dire che anche da ascoltatore non è nobile dirlo ma non sono mai uscito da quegli anni 90 lì e a tal proposito mi viene da dire che il mio primo disco in realtà è uscito nel 2008 ma come se fosse il 94 per quanto erano i miei ascolti e poi si è fatto sentire perché in tanti invece si erano già dimenticati lo sporco degli anni 90 di cui parlava ferretti li definiva così e quindi è stato dirompente ma non è che ero dirompente io era dirompente le spalle dei giglanti su cui tra cui ce ne abbiamo uno qui su cui io mi sono appoggiato per per scrivere quel disco lì che è stato l'ultimo disco uscito negli anni 90 anche se nel 2008 quindi forse se mi sono fatto spazio ma in realtà io sono cresciuto con quella storia lì e la sento ancora la mia c'è qualsiasi cosa faccio compreso questo disco all'interno un'impalcatura che magari non si vede che però viene proprio da lì sia come attitudine e però è anche la tensione che c'è stata negli anni 90 fra la forma canzone e non possiamo fare la forma canzone però è come dire in irvana erano comunque canzoni pop perfette da quel punto di vista lì poi è tutto un pop come ho provato io a fare in questo disco appunto abbandoniamo il paragone con irvana che è stato anche un mio modo ma al destro di avvicinarmi di un pop frainteso un pop che poi rovinava in qualche modo infatti nel libro che accompagna il disco mi è venuto da chiamarlo piccolo manuale di pop in popolare perché mi sembrava comunque il mio genere e per esempio in questo disco per la prima volta ho lavorato oltre che con fede dragogna di ministri con cui lavoro da dieci anni ormai dal disco costellazioni anche con con matteo cantalupi che conosco dal 2007 appena sono arrivato a milano e abbiamo molti ascolti in comune molto background comune non avevamo mai lavorato assieme lui nel frattempo lavorato anche con progetti estremamente pop e con federico nardelli anche lui un mio amico uscito facendo gazzelle poi lavorando con con la pesce di martino con la rappresentante di lista ma anche con cose che adesso non mi vengono i nomi però estremamente pop e poi ho capito da una parte che li disinnescavo cioè per esempio matteo cantalupi mi ha proposto una prima versione di incendio dicendomi fammici lavorare da solo faccio una prova io da solo poi dopo ci lavoriamo assieme quindi ha tirato fuori questa prova di incendio che adesso probabilmente sarebbe in radio a manetta ma che a me non convinceva cioè dopo l'ho rallentata ho tolto il tema che aveva messo subito all'inizio e non perché però perché io comunque sono convinto che le canzoni non debbano essere solo un oggetto di design o ingegneristico che può funzionare alla perfezione in radio mi doveva comunque anche rappresentare mi dovevo esprimere facendolo dovevo avere la voglia di cantarlo di liberarmi per qual di qualcosa non perché eh mia smagna di purezza che non ho mai avuto nel 2008 mi ricordo che mi mi ero il paladino della musica alternativa mi chiedevano cosa ascoltavo io il disco che stavo ascoltando di più era safari di giovanotti che stava vendendo 600 mila copie era il mio disco preferito senza dubbio rispetto a tutto quello che c'era nel 2008 che era quell'indie italiano in inglese che non mi ha mai cominciano mi ha mai interessato e che è stato spazzato via in un anno per altro in realtà il fatto di aver tenuto le redini stilistiche non è stato tanto un vezzo d'artista secondo me non è stato neanche tanto il timore di scivolare verso altri lì di semplicemente è stata l'espressione della tua personalità musicale al punto che eh una delle prime cose gli appunti io sto quattro pagine ma perché so cieco ne basterebbe anche solo uno quindi non vi spaventate non stiamo qua fino a colazione e la prima cosa che che ho segnato come appunto che questo è un album che ti lascia impregnato di immagini che sono immagini ricorrenti come il cielo vento mare fuoco distruzioni interiori eh speranze come solo certi film sanno fare e allora mi viene da pensare che eh scivolare verso dei lidi sconosciuti mettere i riff che che magari possano piacere le radio avrebbe in qualche modo interrotto questa capacità di uscire dal quando tutto questo questo che è un viaggio dall'ascolto alla prima ultima traccia con quella sensazione piacevole che hai di cose che ti porterai dietro per sempre di quando hai visto un film di un certo di quei film che hanno respiro che hanno respiro proprio di immagine che hanno una tridimensionalità che va oltre la trama i dialoghi eh eccetera eccetera ma che ti ti lasciano addosso in questo caso nell'album eh di Vasco tutti questi riferimenti che continuano a inseguirsi nell'arco della canzone che che costituiscono una sorta di texture di di base che è fatta di di natura di di zoomate ampie e di piccoli dettagli di particolari eh che creano proprio il tessuto questa è una cosa che ti invidio moltissimo perché sei riuscito a creare una cosa molto legata alla forza delle parole ma contemporaneamente nonostante proprio quella quella solidità anche melodica che non è sconfinata in qualche cosa disturbante la musica è riuscita ad assecondare moltissimo questa questa cosa che è un bellissimo regalo per chiunque ascolta questo questo album l'ultima volta che ci siamo sentiti via whatsapp ci siamo sentiti perché ho ascoltato un un brano che si chiama tutti per sempre che forse qualcuno di voi eh conoscerà dello stato sociale eh una un brano forse musicalmente non imperdibile dove però eh quel gruppo sviscero un dei profondis davvero incommiabile cioè ho avuto una grande ammirazione per la voglia di mettersi così a nudo ma anche per la capacità di raccontare tutti gli aspetti anche controversi di un percorso eh che nasce con determinati presupposti che poi piano piano si smarriscono è una storia che io conosco benissimo sia da musicista che da produttore sono cose che succedono ehm in qualche modo è una sorta di fotografia generazionale vista dall'interno che ha però poi una una parte finale eh che viene affidata a a Vasco che io proprio scolpirei nella roccia perché eh tratteggi i caratteri i tratti proprio specifici di una generazione musicale che peraltro non è anche la mia però io mi sono emozionato tantissimo ad ascoltare eh come tu hai definito proprio quel fenomeno che non sappiamo neanche più come 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 definire perché quando si parlava di indie all'inizio della stagione dell'indie era una cosa adesso è diventato addirittura quasi un termine dispregiativo quasi un sinonimo di eh di pop molto molto di molto quasi da svendita eh sì in effetti pensando che i sonni cute erano indie esatto era partito da lì la cosa esatto eh però tu riesci ad assorbire in quelle in quelle barre mi esprimo in termini un po' da hip hop in quelle in quella parte recitata proprio tutto il percorso tutte le contraddizioni tutte quelle che erano le illusioni tutte le disillusioni ma alla fine chiudendo con avevamo ragione cioè secondo con una luce che solo uno sciamano può riuscire a a tenere in mano senza scottarsi e qui ho questa cosa qua per certi versi eh è una chiave di lettura che che mi ha fatto entrare in illumina tutto già da subito ehm in qualche modo nelle note io ho solo sbirciato le note dell'album eh viene definita come una sorta di credo eh che non siamo qui ne oggi ne ieri che non siamo che non siamo che non siamo né di oggi né di ieri ma di un'era immensa che guarda il cielo quando si sente persa in qualche modo tu eh riesci a descrivere un diciamo dei fenomeni circoscritti con con uno sguardo e con un ritmo con i ritmi dell'antropologia e con i tempi della natura ma quasi i tempi geologici più che non biologici cioè usi dei termini riferimenti veramente molto 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 ampi questo secondo me ti rende potenzialmente poi non so se tu la vuoi accollare questa cosa una sorta di sciamano di questa di questa generazione e la prova del nove sta proprio in quanto tu proprio pronunci la frase le chitarre distorte se anche qualcuno della generazione precedente avesse accennato le chitarre distorte immediatamente il pubblico avrebbe pensato a Vasco l'altro o ai boomer con i capelli strinati cioè le chitarre distorte pronunciate da te sono quelle chitarre distorte lì ma ancora più che le chitarre distorte che venivano suonate dal palco le chitarre distorte per come venivano intese da chi ha preso parte da quella generazione musicale cioè da tutta la comunità di chi l'ha ascoltata di chi ci ha vissuto e te l'accolli questa storia deve essere lo sciamano di una generazione musicale questa è la domanda ma in realtà no in generale da tutto quello che ha che ma guarda non lo so effettivamente mi viene in mente uno scritto di antropologia che ha un titolo bellissimo che si chiama lo sciamano in elicottero e racconta proprio racconta proprio di questo sciamano vero di una di una tribù che non mi ricordo se per un incendio qualcosa viene preso da lì era una una così un gruppo tenuto protetto diciamo cioè gli antropologi anche che studiavano stavano attenti che non che fosse preservata questa questa comunità però a un certo punto non c'è stata alternativa quindi lo sciamano si è trovato dall'essere in una situazione che poteva assomigliare a quella della notte dei tempi a essere trasportato su un elicottero e quindi questo che era un articolo parlava di quella cosa lì quindi forse ecco se lo sono lo sono nel senso di di sciamano in elicottero cioè di sciamano però veramente con tutte le contraddizioni e tutte le le cose estremamente umane che sono poi quelle che mi sono così che mi sono state trasmesse dai miei maestri perché io negli ultimi anni poi ho studiato molto la filosofia anche lo yoga la meditazione le varie scienze contemplative culture contemplative che hanno questa figura dei maestri no che mi è sempre tornata fino a un certo punto anche a questione del guru e ho capito ma se non mi torna perché i miei maestri ce li ho già avuti ed erano quelli che suonavano le chitarre distorte erano quelli che mi hanno trasmesso letteralmente tra l'altro persone a me vicine cioè con cui lavoro per me Manuel Agnelli o Giorgio Canali con cui ho lavorato cioè sono stati i miei maestri ho deciso di suonare anche per questa gente qui insomma non ti cito perché sei qui ma comunque per questa roba qua che poi ho avuto anche la fortuna di incontrare e che mi hanno trasmesso quindi anche il loro alcolismo la loro generosità il loro narcisismo e quindi comunque tutta questa roba la loro umanità principalmente è che è il loro più grande che potessero farmi che non non la santità no questa cosa qui quindi è uno sciamanesimo però anche questo fatto molto di di sì di di casini e sicuramente c'è questo questa questione che nelle canzoni forse la cosa che accennavi per me ecco è fatta sempre di anche quando sono canzoni d'amore perché illumina tutto volendo anche una canzone d'amore anche se visto da un narratore esterno c'è comunque tutto il mondo contemporaneo dentro cioè come se la corona sonora fossero anche un telegiornale c'è l'aria di quegli anni ma poi me ne accorgo anch'io dopo e però credo che oltre all'aria di quegli anni lì anche in quel pezzo lì del del dello stato sociale alla fine adesso non mi ricordo bene le parole che ho usato però a sì c'è c'è questa cosa no che uno dice che a seconda di come vanno il sistema economico politico uno invece la cosa più importante è il sole cioè il sole siamo qua non a seconda di come va il sistema economico e politico ma il brillare del sole quello che ci sta tenendo in vita e sulla faccia della terra in questo momento quindi anche lì da tutto lo sporco di quegli anni lì i casini delle nostre vite però anche una scintilla di eternità cioè anche vedere le cose in modo un po più ampio ecco quella cosa lì per me è fondamentale se no una canzone non mi sembra riuscita c'è dentro ci deve essere anche questa complessità qua anche sempre rimetterci nella giusta proporzione che è minuscola ed estremamente precaria e questo può essere anche molto liberatorio facciamo un applauso e non mi bruciare l'eternità non mi bruciare l'eternità perché ci arriviamo alla fine perché ero il culo di teatro era questa cosa qua però invece leghiamoci subito questa questa scrittura la quale accennavi alla spiritualità e anche a come l'hai affrontata a parte il fatto che ho apprezzato moltissimo allora faccio una premessa ho una una sorta di diffidenza nei confronti dei musicisti che ostentano le loro pratiche meditative non vorrei parlare mai del mio bassista però lui lo fa in modo molto molto sincero molto autentico però perché mi sembra da ascoltatore che cerchino di frapporre una sorta di filtro che in qualche modo si stiano costruendo una sorta di di torre d'avorio che che cerchino una sorta di 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 distanza che li possa in qualche modo rendere immuni forse da un giudizio cioè loro comunque appartengono ad una sorta di bolla spirituale la loro musica viene ammantata da questi presupposti quindi diventa anche più difficilmente giudicabile senza tener conto di questi presupposti io ho letto incominciato non non sono riuscito ad arrivare ancora fino alla fine perché ho avuto pochissimo tempo ma lo faccio molto molto vedete nei prossimi giorni piccolo manuale di pop in popolare dove tu nel tuo quotidiano parli delle delle tue pratiche mi piace moltissimo il fatto che tu le abbia taggate con la tua riproposizione impastata con la poetica ccb bellissima come che le chiamate che si chiamavano pratiche corporee creative contemplative quindi pc cc esatto e già questo comunque denota un approccio completamente diverso e sto per sto facendo diciamo una domanda per ogni canzone questo serve un po il gioco che ho intenzione di fare questa sera un segno di vita nelle note viene segnalata come una sorta di sottolineata come una sorta di preghiera tutto un credo un segno di vita una preghiera e qui ci porta proprio dentro la questione del della spiritualità io sono rimasto molto affascinato da questa pace apocalisse germogli di hiroshima distruggevano e ricostruivano germogli di hiroshima significa la ricostruzione dopo la distruzione come se tu guardassi anche le anche le le ansie le angosce che stiamo vivendo in questi tempi come un fenomeno quasi ricorrente come una parte parte di una sorta di ciclicità e qui torniamo a questa zoomata larghissima per cui l'analisi del dei giorni proprio del dei frame dell'attualità con uno sguardo che ha a che fare comunque con dei tempi molto più dilatati ed è una cosa che mi affascina molto ed è una cosa che che può arrivare solo da chi con queste dilatazioni fa i conti anche attraverso questi strumenti che sono gli strumenti invece della della spiritualità e qui mi riconnetto col fatto che io non ho un pregiudizio nei confronti di chi di chi pratica e di chi medita anzi è una cosa che mi attrae moltissimo probabilmente è una cosa che anche con la quale mi misurerò ogni tanto ho delle delle perplessità o dei pregiudizi su determinate artistiche queste cose le ostentano forse anche proprio perché non le affrontano con con quella con quella intensità e con quella autenticità la domanda che ti vuole arrivare la domanda tu hai sentito la la necessità di praticare la meditazione più come strumento di ricerca di equilibrio o come strumento percettivo aumentato rispetto a questa tua capacità che dalle prime se io la se vado a confrontarla con la prima stagione dell'uscita centrale elettrica mi sembra una naturale evoluzione uno strumento percettivo con il quale riesce a leggere anche questi frame di realtà quasi iper realisti e periferici di realtà sfuggente di realtà più piccola con uno sguardo ampio quindi sei andato alla ricerca di qualche cosa che in qualche modo colmassa delle tue fragilità dei tuoi disequilibri oppure sei stato più uno speleogra uno sperimentatore qualcuno che andava alla ricerca di uno strumento percettivo più potente perché i risultati nella tua musica sono di una maggiore efficacia nel descrivere cose piccole con con parole con respirianti beh guarda io penso che certe cose siano semplicemente degli effetti collaterali delle pratiche della meditazione e che è perfettamente inutile quindi è proprio una pratica inutile e quindi è difficile pensare di farla con un fine poi dopo ha degli effetti collaterali spesso spesso positivi anche se non tutti positivi perché poi la pratica che faccio io che si chiama vipassana è vecchia di 2000 passa anni si chiama chiara visione sarebbe la parola vipassana e chiara visione vuol dire che non è che vedi i paradisi del benessere vedi quello che c'è cioè tutte le nevrosi cioè proprio tutto vedi meglio e quindi vedi meglio quello c'è che spesso non è non sono appunto i paradisi però questo vedere meglio forse ti fa vedere meglio le cose poi ci vuole spazio per vedere le cose se noi siamo totalmente assorbiti dalla nostra proliferazione mentale che in quelle culture viene chiamata secrezione mentale quindi ci rendiamo conto di cosa sono le secrezioni e quindi una roba che poi ovviamente è distinta dalla riflessione il momento in cui tu decidi di riflettere su qualcosa la secrezione mentale sono i pensieri che la nostra mente produce produrrà per sempre produrrà anche nel di essere più evoluti però uno decide di fidarsi ciecamente identificarsi completamente in questa roba oppure qualcuno dice che riguardo passare ma cerco anche di vedere tutto il resto ecco il creare spazio rispetto a questo sicuramente fa in modo che si affini un po la la sensibilità che possono entrare altre cose maester Eckhart che era un grande mistico del medioevo la diceva del tipo che a dio non piace il vuoto e quindi se si crea un vuoto va subito lì a riempirlo e lì ti fa vedere le cose cioè lì hai il contatto con il mistero e questo è il motivo per cui ho continuato a meditare quando ho iniziato perché perché ho visto che lì c'era qualcosa di vero di vero molto più vero e molto più reale del materialismo che passa per essere la cosa materia no la cosa reale e invece no vedevo che lì c'era qualcosa che sappiamo che c'è che al di là delle cinquantennine che abbiamo con i nostri sensi che ci fanno percepire la superficie mi viene da dire quasi la punta dell'iceberg della realtà noi percepiamo con queste cinquantennine dei sensi infatti non percepiamo se c'è il wifi in questa in questa sala o o tantissime altre cose che sappiamo che esistono persino grandi scienziati mi viene in mente bobbio che dicevo io da uomo di scienza e non di religione mi rendo conto che ci sono dei misteri che la scienza non riuscirà mai a sciogliere e che la religione invece prova in altro in altro modo ecco per me fare finta di niente che non sia un mistero questa vita questo nascere questo morire questo essere su un pianeta in un universo di cui non sappiamo ancora niente di insomma ecco mi risponde senza rispondermi veramente a qualcosa e poi mi colpisce come per esempio il meditare visto che siamo fra gli intimi io non ne parlo mai in questi termini un po più diretti però il semplice mettersi in queste tecniche che sono davvero semplicissime peraltro un ascolto del respiro così com'è i movimenti involontari del corpo che è mettersi alla pare dei movimenti involontari della natura in una canzone c'è la logica senza senso delle maree del vento l'ascolto delle sensazioni già mettersi a contatto con questo ascolto come nel mettersi a contatto con una lingua che non conosciamo che non sappiamo decifrare però il solo mettersi in ascolto ce la fa capire cioè mi fa capire qualcosa di queste logiche senza senso delle maree del vento da dentro di me che siamo comunque la stessa materia assemblata in un altro modo ma le stesse sostanze per quello l'umanità ha iniziato a meditare partivano da loro stessi e ci arrivavano profondamente cioè questi avevo sapevano quanto erano le ghiandole endocrine 2000 anni prima di capire che erano le ghiandole agrotiche da dentro di sé quindi ci sono anche delle cose bizzarre però però il motivo che lo faccio è semplicemente perché mi metto in contatto non lo riesco a dire meglio ma non rende l'idea con con il mistero con la vita vera cioè a me in una giornata anche pienissima di cose intense oggi ho incontrato persone interessanti finiamo qua tutti assieme quindi il top no di questa mitologia della vita intensa cioè per me la cosa più intensa della giornata è stata l'aver meditato stamattina cioè se no mi sembra di non vivere quindi quando mi sono accorto di questo faccio anche una vita che era una figata no contemporaneamente questa cosa in molti che praticano e soprattutto molti quelli invece la ostentano cosa che tu non fai perché poi in realtà questa cosa viene fuori dalle tue cronache quotidiane esattamente come potrebbe venire fuori l'hangover di una sbornia viene fuori anche quello infatti ci ho tenuto mettere tutto produce una sorta di sensazione di distacco rispetto ai fattori umani tipo le passioni le pulsioni le emozioni nebbero immediatamente successivo che i meccanismi c'è questo questo aspetto del sole tra i rami degli alberi monumentali più grandi di cattedrale quindi torniamo anche la natura come fosse una sorta di di angolo di visuale di tutto quanto ma la figura che emerge è questa che spaventerai sempre tutti con la tua voglia di vivere non riesci a smettere il cuore non riesci a smettere di ridere attraverso i meccanismi del cuore che sono le leve che tutto fanno sopportare io ho letto una sorta come forse completamente tutto un altro sguardo e che ti fa scendere proprio dalla dal podio dello stilita una sorta di apologia dell'ingenuità invece come forza sono sono poi dei sentimenti che ti fanno vedere la realtà forse non esattamente quella che è ma nella modalità che ti aiuta a sopravvivere ti aiuta affrontare ti aiuta anche a cambiarle in qualche modo l'ingenuità qualcuno ha detto è la forza che fa avverare i sogni e noi sappiamo benissimo anche quando cominciamo a imbracciare uno strumento pieni di sogni di gloria che siamo completamente ingenui ma attingiamo molto a quella quella energia propulsiva l'ingenuità è quella che ci ha fatto fare a tutti i primi i primi i primi passi sul palco ci ha fatto vincere tutta una serie di di paure uno ti chiedo se sei d'accordo con questa con questo questa lettura sia di meccanismi che di questo aspetto legato qualche modo alla nostra deformazione professionale ma soprattutto sul fatto che a un certo punto nel momento in cui entri incomincia questo questo comincia a diventare un lavoro esiste anche un po una perdita di questa ingenuità non perché si esauriscano delle cose dentro di tema perché l'impatto col modell'attrito con il mondo soprattutto col sistema musicale tende ad asciugarti e di lì forse la vera prova cioè riuscire poi a oltrepassare quella quella frontiera nel momento in cui sei stato denudato da tutto quello che tu ti costruivi e vedevi come fosse un abito scintillante ma lo vedevi solo tu ed era una corazza era la tua corazza a un certo punto questa corazza ti viene tolta e sei a nudo nei confronti del mondo sei in mezzo a determinati meccanismi e devi andare avanti e lì forse la forza si misura la forza di di uno di un artista non so se se siete accorti innanzitutto su questa questione ma guarda in realtà sì in effetti mi viene in mente che che assomiglia a quel verso che c'è nella prima delle chitarre distorti alla fame e la sete di vita e neanche i meccanismi è proprio è proprio questa cosa qua che dici tu il un po che mi fa paura evidentemente e mi colpisce chi riesce a vivere a a cuore aperto no chi spaventerei sempre tutti con la tua voglia di vivere che peraltro la persona a cui pensavo quando l'ho scritta che poi gliel'ho fatta sentire si è quasi offesa sentendola c'è la toccata in un modo che l'ha perché sarei sentito che è così perché perché forse non siamo abituati a quell'entusiasmo che a volte può sembrare infantile nella vita adulta invece è un grande è un grande è un grande regalo e parlando di cose più facili mi viene da dire che effettivamente è stata una grande forza propulsiva il quell'ingenuità per me all'inizio che è un'ingenuità che è anche qualcosa dell'ignoranza per me è stato un grande dono non conoscere minimamente le regole del gioco ti permette di infrangerle senza nessuna strafottenza perché non sai com'è io penso di me all'inizio che non avevo mai letto le riviste musicali si era molto meno informati delle cose in generale non sapevo cosa fosse un ufficio stampa proprio mai sentito di neanche dire e non sapevo neanche suonare devo dire la verità avevo proprio iniziato con il punk suonando il basso e io tuttora suono da da destro anche se sono super mancino perché quando ho preso il primo strumento non sapevo che esiste fanno gli strumenti per i mancini e tuttora continuo così e ho dei limiti dovuti a questa cosa cioè su certi ritmi è ancora ci metto di più perché comunque ecco la mano destra per quanto ormai sono ad altra parte sarebbe impossibile però quella roba con il fatto che io all'inizio ho iniziato lavorare 17 anni poi sono andato via di casa 19 intanto provavo a studiare a suonare lavoravo in un bar a un certo punto questa ingenuità qua mi ha fatto chiudere tutte le vie d'uscita di emergenza possibile per dire io voglio fare questa cosa qua che persino Giorgio Canali che si era proposto di registrare il mio primo disco in quel periodo stavo facendo solo questi tour della provincia ferrarese senza mai riuscire a sconfinare neanche nella provincia di Bologna o di Ravenna o di Rovigo e Giorgio per caso mi ha visto un concerto perché suonava con gli Zen Circus di cui aveva prodotto un disco e alla fine di questo concerto dove io ero tra l'altro sbronzo era a Gambulaga in provincia di Ferrara e ho finito questo concerto urlato così con il fonico che sale fa cavolo ma avevi le spie spente potevi dirmelo io non me ne ero neanche accorto capito e so però sono uscito c'era Giorgio Canali così con cui non avevo mai parlato prima che e di cui avevo grande timore riverenziale e che conoscevo benissimo sia tutta la sua storia che tutti i suoi dischi da solista e amavo molto mi ha detto la cosa più figa per lui è un esagerato la cosa più figa che ho visto negli ultimi 15 anni questo concerto e quindi poi mi ha detto registriamo il disco a settembre lì era appunto il primo maggio e io gli ho detto guarda che però io non ho né soldi né casa discografica ho spedito questo demo in giro e non lo prendono neanche nei concorsi a pagamento allora c'erano i concorsi per questo concorso a Padova che gli ero mandato e facevano questa prima selezione poi dovevi pagare e andare e questi mi hanno detto no neanche pagando capito e però lui quando gli ho detto prima di registrare il disco siccome ero a fare a settembre io dovevo ricominciare a lavorare a settembre gli ho detto guarda mi sono licenziato dal bar e lui che si vanta di non aver mai lavorato un giorno in vita sua e dice e lui sai quando gli musicisti se la prendono che gli dicono non è un lavoro lui dice è vero non è un lavoro io non ho mai lavorato un giorno in vita mia lui si vanta di questa cosa lì si incazza moltissimo mi dicevo sei proprio un coglione la tua merda piace solo a me invece così se va bene vendiamo duemila copie e invece io ero sicurissimo di me ma mi rendo conto adesso che non aveva senso quella sicurezza che avevo era proprio quella con l'ingenuità hai citato prima una frase bellissima la logica senza senso della marea del vento che infatti l'ho segnata ma vorrei andare magari accelerando anche un attimo comunque possiamo prenderci un po più di tempo rispetto alle librerie di solito le facciamo un po di corse perché chiudono se voi siete dell'idea possiamo fare un po più con calma però andiamo però si comunque non ben ur facciamo che parlo meno io parli più tu quindi stiamo parlando di fuoco dentro il brano che ha un featuring importante bellissimo tra l'altro molto centrato che quello di nada e allora come probabilmente voi sapete benissimo abbinato all'album c'è questo manuare di pop in popolare che è una sorta di è una sorta di narrazione che ha il ritmo della quotidianità una sorta di di agenda quotidiana dove vengono raccontate tutta una serie di cose che hanno a che fare con la gestazione delle canzoni ma che hanno a che fare anche con con il quotidiano di di vasco e mi sono segnato una cosa che mi ha veramente incuriosito e secondo me è allora io leggo esattamente dalle righe del del libro ti sei messa a piangere mentre lo raccontavi ma mi hai detto che piangevi di gioia senza dire niente ho cercato di prendere il tuo dolore su di me come faccio su di me come descrivono in quella tecnica tibetana il tonglen inspiro e mi faccio carico del tuo dolore che entra dentro di me fino a mettersi in connessione con il mio dolore incontrandosi creano una luce bianca che fuoriesce intorno a noi espiro e questa cosa del del tonglen la relazione con con nada che penso che possa essere anche una cosa una curiosità innanzitutto mia e no spiegami perché è troppo bello beh sì questa in realtà è ne parla molto pema ciodrom che anche in italia è pubblicatissima da feltrinelli e ve la consiglio molto è una una grandissima monaca che scrive benissimo è rarissimo trovare qualcuno che scriva bene parlando di meditazione perché un po un altro sport infatti c'è riuscita chandra kandiani nel silenzio cosa viva è un po carrerre in yoga se no normalmente non sono persone che scrivono quindi scrittura quella che è in pema ciodrom è fortissima lei ha ormai ha 90 anni è una delle più importanti influenti ha formato generazioni di praticanti sta negli stati uniti e mi ha colpito perché una volta è molto simpatica anche a un grande senso dell'umorismo e lei dice adesso appunto una vecchina di quasi 100 anni con gli occhi vivi e un fuoco dentro appunto di quelli seri e lei ci parla più facilmente perché lei è diventata monaca dopo che le sono falliti tre matrimoni c'era proprio una panca bestia diciamo così del no più di quella generazione prima degli anni 70 quindi comunque delle cose più vicine a noi perché appunto lei è occidentale anche se poi è passato decenni altrove e lei dice dopo tutti questi anni di pratiche di prediche sono ancora completamente pazza dice perché le mie nevrosi sono ancora tutte al loro posto la differenza è che adesso riesco a non assecondarle tutte cioè vedo che ci sono ma non le agisco e non è poco però è interessante non ci va a capire che non è che all'improvviso sparisce tutto e lei tra le varie tecniche che descrive c'è questa del Tonglen che è anche una meditazione oltre riflessiva non è non è ci sono meditazioni molto più semplici e importanti questa qua però è interessante perché ecco tornando anche alla domanda che mi facevi prima sulla meditazione rispetto a chi magari se ne fa un po' un'identità che ti rischia di separare dagli altri in realtà è proprio il contrario per me il punto è proprio abbattere quell'allucinazione di separatezza che abbiamo gli uni con gli altri quella che proprio Jung la chiamava un'allucinazione il sentirsi degli individui separati non è non è proprio così cioè ce lo dice anche la fisica noi possiamo pensare che sia che siamo invece non è così siamo tutti assieme proprio completamente il Tonglen va veramente in quella direzione lì ti permette anche di oltre c'è una persona che soffre senti che non puoi fare niente questa cosa qua di senti di metterti in contatto con per esempio quel dolore lì che però lo puoi fare anche con la gioia non è deve essere anche un congioire non è solo un compatire e fare in modo che ispirandolo entra dentro di te va a toccare il tuo di dolore e poi succede qualcosa di alchemico nell'incontro che esce invece diventa qualcos'altro e poi vale anche se tu da solo stai soffrendo pensare che comunque non sei solo a soffrire pensi alle altre persone che stanno soffrendo in quel momento oppure pensi che forse è complicato andare a descrivere questa tecnica però per dire se uno ha parlo di me se uno ha una persona vicina che sa che è un periodo che sta soffrendo una madre anziana o così hai l'influenza con un mal di testa fortissimo e pensi ok che io mi godo questo dolore perché è come se me lo sto prendendo a carico invece che un'altra persona cioè che possa caricare io tutto il dolore su di me quando ci si lascia con una persona la cosa più difficile è pensare che quell'altra persona soffra cioè tutti penso che faremmo volentieri guarda ci dobbiamo lasciare però vorrei caricarmi io di tutto quel dolore lì perché tanto so che me lo gestisco e non ce l'hai tu ecco questa pratica qua funziona anche in quella direzione lì quando provi dolore dici ok va bene che io lo stia provando perché lo sto togliendo una persona sembra complicato da dire in realtà queste pratiche sono poi molto semplici come è entrato nella canzone questo come mai era abbinato questa canzone nelle note di fuoco dentro e poi perché lì è una è una storia di questa di questa donna quando l'ho fatta sentire a nada mi ha detto è una è una donna una figura di donna che conosco bene in cui mi riconosco una figura di donna che scrive poesie ancora con questo bambino sulle ginocchia ma che è da sola con questo bambino sogna ancora la madre che immacchiano con lei lì che lì che canta però la madre la sogna perché non c'è più quindi una persona che ha avuto quelle cose normali perché sono normali nella vita cioè di trovarsi scomodi di trovarsi scomodi non c'è più la mamma ha però un bambino sulle ginocchia ma scrive ancora le poesie e quindi forse per quello mi è venuto da cercare di alleviare con questo tonglen mi è venuto in mente e nada è stata bravissima a cantare questo dolore per liberarsene nada è una che libera tutti noi attraverso il dolore kerouac lo chiamava shock telepatico se qualcuno prova un'emozione nella propria scrivendo la propria opere d'arte le persone affini sentiranno la stessa emozione se quella persona si sta liberando di qualcosa lo sta facendo anche per gli altri anche gli altri si libereranno di quel dolore nada si sta liberando di un dolore per gli altri e per noi fan come come è nata la collaborazione con nada questa è la domanda più basic però guarda è nata è nata da qua io io l'ascolto da sempre proprio la mia cantante preferita se si può dire questa cosa da fan e sempre di più perché poi ha fatto un altro disco che mi era piaciuto tantissimo prodotto da cesare basile poi ha cantato nel primo disco solista di massimo zamboni sorella sconfitta uno dei dischi che più amo e poi una volta grazie massimo zamboni l'ho conosciuta più da vicino mi ha invitato a cantare emilia paranoica in uno spettacolo che faceva massimo si chiamava il richiamo degli scomparsi e nada ha voluto cantarla con me e quindi ci siamo conosciuti sul palco cantando emilia paranoica con massimo che suonava la chitarra quindi il mondo della surrealtà l'avevo intravista prima perché ha fatto un tour con gli zen circus come backing band e lì avevo capito che era una di noi perché perché gli zen stessi mi dicevano è nada è rock and roll c'è ufo capito doveva stare dietro delle cose di nada quindi c'è ufo e quindi è stato un bellissimo incontro è stato bellissimo andare anche da lei a registrarlo lei sta in queste colline a un'ora e 40 da da grosseto segui una strada bianca e sarà in mezzo a niente il contrario delle nostre città che sono fatte da esseri umani per esseri umani e non ci sono quasi più neanche i piccioni lì invece non c'è niente di umano assurdo anzi mi ha raccontato questa cosa forse a proposito delle delle canzoni pop mi ha detto per la prima volta ho ascoltato la radio e ho capito perché dopo tantissimi anni che non l'ascoltavo ho capito perché non passano mai i nostri pezzi in radio comunque passano delle cose diversissime io ho detto ma come mai hai cominciato a ascoltare la radio e lì mi ha spiegato perché lei ha dei cinghiali che di notte arrivano fino a casa sua e rovinano il prato e quindi le hanno detto che il modo per tenerli lontani è accendere una radiolina tutta la notte fuori e quindi lei la usa per scacciare i cinghiali la musica che cerchiamo di fare e quindi lì l'ha sentita un applauso a nada anche indifferita e probabilmente con radio 3 non funziona non abbastanza no no esatto deve scegliere deve scegliere le cose più arriviamo ad incendio vado abbastanza in ordine portami con te prendimi proteggimi in che bar in che cinema ti ricorderai di me come un incendio che ci illumini domanda proprio da curioso prima è questo portami con te è portarsi dietro un'immagine o portarsi dietro la persona fisica ma guarda io poi ci devo ci devo no e ci devo veramente siccome fa al veramente la scrittura in particolare quella quella scritta prosaica passa più verso il fisico attraverso il filtro della mia razionalità quella delle canzoni non è una cosa quella delle canzoni si è captata e quindi non lo so penso che sia più che so che sia un po tutte e due le cose in effetti ok che la risposta migliore in realtà il tema di fondo poi sono alcune canzoni che fanno affiorare dei temi in modo più netto ma la cosa bella come diciamo prima tornando a quello che ti lascia un po impregnato è che tutti questi elementi continuano ad affiorare in misura maggiore minore nello sfondo di tutte le canzoni una cosa molto bella questa e ci sono tantissime figure nomadi ci sono viaggi ci sono persone che fuggono sono persone che arrivano ci sono persone che comunque si muovono parlando sempre un po in modo assolutamente non nostalgico perché non ci interessa del degli anni 90 ad un punto era inerso un po questo tratto del nomadismo digitale anche perché le nuove tecnologie ti permettevano probabilmente di essere efficacemente dentro il mondo anche i luoghi che non necessariamente erano delle grandi grandi città dove succedevano le grandi cose e quindi nasce un po questa figura del nomade digitale e a me sembra che tu sia anche un po una sorta di nomade culturale perché proprio perché perché tutto aspetto sfuggente parlavamo prima appunto anche del grande tema che per molti artisti finisce per essere eccessivamente ingombrante della meditazione della spiritualità di come lo tratti di come aggiunga qualche cosa al tuo codice espressivo di come non diventi un ingombro perché ti ascolta come qualche modo ti faccia sfuggire a una classificazione tu sfuggi tantissime tantissime classificazioni ti senti un nomade ma si guarda pensa che l'ultima questa domanda mi risuona perché l'ultima cosa che ho scritto e cantato per il disco è nella canzone che si chiama proprio fuori città quindi ha già anche questa forse un movimento nel titolo ed era questa coda strumentale a cui poi in extremis ho detto no devo voglio mettere lì un'altra un'altra cosa sarà forse con quell'impito di quando stai chiudendo il disco e ancora vuoi e però per me era molto significativa che quella frase dice desideri che ci guidano desideri soltanto con i nostri percorsi disegniamo labirinti visti dall'alto ecco mi sembra che nei tre anni che ci ho messo a scrivere il disco visto dall'alto ho anche disegnato dei labirinti cioè che questo nomadismo sia sia stato ok adesso vado un po di là e poi dopo invece torno di qua e però forse devo tornare a Ferrara però no a Milano aspetta no che parto faccio un altro viaggio comunque anche un gran casino questa roba quindi c'è una parte di ricerca una parte non dico di compulsione ma quasi c'è una cosa che comincio a guardare beniam mi diceva poi mi è venuto in mente che forse quella frase me l'aveva ispirata lui diceva che il labirinto è la patria di colui che esita e quindi forse in effetti se uno non prende le decisioni e sta nelle infinite possibilità del contemporaneo costruisce questi labirinti poi per me è stato anche fare il disco questo movimento i luoghi del disco sono proprio stati dei luoghi geografici un po' proprio il fatto che ho sempre mi piace tutto di fare i dischi tranne la cosa fondamentale che è il momento di registrarli in studio quello lì lo patisco mi piace scriverlo prima lavorare un po' con i musicisti prima poi quando si entra in studio mi viene non mi piace non mi piace stare davanti al computer non mi piace che gli studi siano quasi tutti i semi interrati e non mi piace che c'è l'orario preciso dalla mattina alla sera cioè faccio proprio fatica poi lo faccio e anche velocemente quando poi quel punto lì perché voglio finirlo però ho detto quest'anno questo giro voglio voglio provare a godermi anche questa parte di processo e per me il modo di godermelo è sempre strappare qualcosa dal come si fanno le cose cioè trovare un altro modo il modo è stato principalmente portarsi sugli strumenti in un posto che mi piaceva che è un rifugio a 2500 metri qui in Val d'Aosta dove c'è il rifugio di Paolo Cognetti il mio amico uno scrittore e ci siamo caricati come degli scerpa per portare su tutto Paolo ci faceva da mangiare intanto che in realtà è anche un grande cuoco anche se non si sa e quindi metà del disco l'abbiamo fatto lì potendo camminare la mattina lavorando comunque la mole di ore che si lavora in studio però facendo il fuoco la sera lì stando appunto a contatto con la natura e le montagne cioè stando in un posto del genere dove anche lì appunto torni nella giusta proporzione rispetto al resto ed è stato fondamentale poi comunque ci siamo andati anche nel semi interrato a Milano sono andato su un'isola in mezzo all'oceano dove sempre state ma sono andato comunque a Ferrara lì sono stato in realtà questo giro un po' alle Canarie in giro un po' in Marocco e poi però comunque appunto dove era sempre estate anche d'inverno per poi tornare a Ferrara perché comunque per registrare un po' meglio sono tornato nel mio studio a Ferrara dove in compenso c'era l'inverno padano con una nebbia come raramente si vedeva da anni quindi comunque questo nomadismo penso che sia entrato anche nell'aria del disco poi io credo che le canzoni siano molto trasparenti nel senso che si senta anche quello che non si sente direttamente cioè l'aria di quando lo stavi registrando, come stavi, con chi stavi attorno in questo senso questo disco qua è completamente diverso dal mio disco precedente Paesaggio dopo la battaglia che è stato scritto e registrato in lockdown con delle cose più pesanti che stavo vivendo mentre adesso era un periodo della mia vita anche che negli alti e bassi del Samsara era tutto abbastanza tranquillo ed è stato anche un disco di reazioni in quello cioè per me è stato un disco pieno di gioia è stato il primo disco che non mi sono stressato a fare che non mi ha fatto perdere le notti insonni che poi va bene anche quello però questo giro con mia sorpresa non è avvenuto nonostante stavo anche azzardando dal mio punto di vista delle cose mi ha fatto proprio capire che più ti apri, meno ti difendi più paradossalmente ti rendi così esposto più ti senti forte cioè ed è controintuitivo perché potresti sentirti più fragile se ti apri tanto e invece mi ha dato proprio questa sensazione ed è un disco molto più esposto in questo senso del precedente ma letteralmente c'è la voce davanti ci sono le cose cantate di più con la voce fuori addirittura me ne sono accorto dopo che avevamo fatto queste prove di servizio di fotografico con una fotografa con cui lavoro tanto e poi è diventata la copertina la prima copertina dove ci sono io in copertina anche se sfocato e così però penso che abbia così che l'ho capito a posteriori però avesse tutto un suo senso quindi è un album che nasce fuori città e arriviamo alla canzone successiva adesso magari acceleriamo una quasi finita ragazzi poi lasciamo spazio anche alla musica vera e propria fuori città io mi sono appuntato mi vergogno quasi a dirti ma secondo me se non potresti essere contento un capolavoro di equilibrio tra Vasco l'altro e una salmodia ferrettiana il ritornello di questo pezzo fa parte di quei ritornelli che tiri giù il finestrino e te lo canti te lo canti anche in coro ed è davvero incredibile come ci sia io non sono grande fan di Vasco l'altro per cui non è che lo dico come però mi rendo conto che c'è quella spinta in qualche modo liberatoria a farti vincere quella gara con le classificazioni fra tutto quello che sta nel recinto della musica che va, che si ascolta e che in qualche modo viene considerata con dei parametri in costante aggiornamento e una canzone che in qualche modo gioca un po' con il suo essere eterna fruibile e risponde a quelle esigenze di cose che chiediamo alle canzoni quelle belle e in qualche modo c'è questo impasto con questo aspetto un po' più livido un po' più sembra veramente una sorta di litania che affonda le radici in quello di cui abbiamo parlato prima che è una cosa secondo me molto bella ma questa è una considerazione mia chiusa parentesi in realtà la domanda è in questo brano si parla dell'epoca della grande svendita e dei figli dei fiori di plastica chi sono i figli dei fiori di plastica? ma guarda questa canzone poi non si capisce perché nelle canzoni infatti la prima cosa che ho visto una volta sai che su google compaiono le cose le prime ricerche immagino che ci sono di chi fa quindi un giorno stavo cercando io stesso un testo di una canzone mia perché volevo suonarla quella sera ma non me la ricordavo più bene e tutti i testi compariva tipo fuori città significato cosa significa? proprio diciamo ok la ricerca di più è cercare di capirci qualcosa ma questi figli dei fiori di plastica sono stati quelli che mi ha ispirato la canzone a me è venuta in mente questa canzone lì in mezzo dice girano in trenta in cerca di rivincita ora la porta è semiaperta quando è l'unica canzone che porta con sé è un po' quella quell'apocalisse domestica che c'è nel disco che c'è in quella canzone l'apocalisse domestica è quella che abbiamo vissuto nel periodo della pandemia dove dici chissero sarebbe aspettato che un'apocalisse una prova di apocalisse condivisa da tutto il mondo avesse quei toni domestici non aveva i tuoni e i fulmini fuori ma eravamo a casa in silenzio perché non c'era nessuno attorno domestici tutti e mi ha molto colpito questa cosa poi faremo in tempo a vedere la parte di apocalisse con i nubi fragili abbiamo già cominciato a vederla quindi avremo anche quello spettacolo lì sicuramente se campiamo ancora qualche anno e però vedevo poi quando è finita la cosa queste compagnie di ragazzini che giravano in 30 o 40 sia a Ferrara che a Milano cioè che proprio la voglia di starassimera è diventata tale che c'erano queste robe che sembravano delle gite io dicevo ma come cazzo è poi spesso si menavano cioè il casino poi sia a Ferrara che a Milano dopo appena finito l'estate l'estate del 2020 andavo nelle piazzette varie e quindi sono stato molto tempo a osservare questa generazione più giovane di me a parlarci un po' i miei fratelli hanno un bar a Ferrara quindi lì ho un contatto anche con un po' di vita reale e così volevo sentire un po' e mi hanno proprio ispirato questa canzone questo ritornello non è uno schermo è la realtà non puoi attenuare la luminosità questo che vivere un'unica vita che non è quella virtuale e quella reale come io forse chi non ha avuto quel cambio antropologico lì la vede ancora un po' separata invece per loro mi sembrava una stessa vita però comunque poi ha a che fare con le quattro dimensioni all'improvviso di cui non puoi attenuare la luminosità cioè che mi parlavano guardando in basso cioè senza e così per me è stata una ricerca di avvicinamento a quello che vive nell'epoca della grande svendita cosa ti tormenta qui nell'epoca della grande svendita e quindi i fili dei fiori di plastica mi sono sembrati questa generazione per me misteriosa adesso che ho compiuto 40 anni quest'anno vedo una grande differenza tra me e i miei coetanei di allora e quei ragazzi che hanno adesso 17, 18, 19 anni è la prima volta che vedo esseri veramente diversi e che non sono riuscito minimamente a rappresentare lì anzi dopo li ho mischiati come si fa nelle canzoni con cose mie di allora però ecco i figli dei fiori di plastica era questa cosa ho capito adesso compattiamo due canzoni così andiamo un pochettino più speduiti Vista Mare e va dove ti esplode il cuore le ho diciamo scardinando un po' la la track list infatti canzoni bellissime in qualche modo parlano della morte in un senso molto luminoso nel senso che Vista Mare vorrei morire qui tranquillo come un animale qui sprecare la mia vita con poco da fare vorrei morire qui tranquillo come un animale sprecare la mia vita smettere di cercare e l'eternità invece espressa in va dove ti porta il cuore che è proprio un giorno ci toccherà morire ma tutti gli altri giorni no parlare della morte significa in qualche modo secondo me nel tuo caso parlare della relazione con l'eterno con l'eternità allora la domanda che ti faccio è l'eternità l'ingrediente segreto delle tue canzoni cioè cercare di relazionarsi sempre con qualche cosa che possa dover durare nel tempo soprattutto in relazione a quella che diciamo possiamo chiamare l'epoca della grande svendita senza giudicare i figli di fiori di plastica perché tra i loro ragazzi ci sono le stesse gli stessi desideri gli stessi slanci nostri le stesse capacità lo stesso talento che ci sono dei ragazzi anche musicalmente pazzeschi cioè non è per niente dispregiativo figli di fiori di plastica per me esatto avessi notato una nota di dispregiativo non ti avrei fatto la domanda proprio però questa relazione con relazionarsi con l'eternità passando giocando di sponda con un elemento ingoubbrante come la morte rivela il fatto che tu in qualche modo l'eternità in tutto quello che fai nel significato nel senso di quello che fai la senti comunque come diciamo una sfida un elemento a cui tendere un elemento a cui relazionarsi sì è un referente cioè c'è anche quella cosa lì ed è un po' quello che dicevo prima che c'è il presente ma quella scintilla di eternità così come c'è per me è importante anche l'universale che ha a che fare forse con questo concetto e però anche il microscopico e mi sono reso conto di come per esempio nelle canzoni sia fondamentale parlare di quello che conosci benissimo e anche piccolo e solo quello potrà diventare universale c'era Monicelli che aveva fatto iniziare una produzione di un film negli Stati Uniti e l'ha interrotta subito perché si è accorto di non sapere come gli statunitensi entrano e escono dalla macchina o il gesto che fanno per rispondere al telefono quindi dai io non posso non renderò mai questo film universale lo posso fare solo a Firenze dove so benissimo perché è fatto di quei gesti un film poi noi che non siamo registi non lo sappiamo però ci godiamo ancora adesso Monicelli quindi aveva ragione lui e quindi poi è importante anche questo discorso così come per me è importante quello della morte parlando del mondo della meditazione è una cosa che sembra incredibile però è la prima cosa in molte pratiche meditative la prima cosa che ci si dice la mattina è proprio il fatto che sulla finitezza c'è una meditazione che è sulla morte io sono stato in questo paesino nel nord dell'India che è dove sta la comunità tibetana in esilio Megloganji ma pochissima gente è proprio arroccato perché comunque gli indiani si sono presi i tibetani il Dalai Lama eccetera però l'hanno messo in un posto dove è faticoso andarci perché se no appena era arrivato era da un'altra parte e si erano create le folle oceaniche e questo era scomodo anche per l'India nei confronti della Cina e quindi ha detto ok ce li prendiamo ma li mettiamo sul cucuzzo della montagna che altro che Val Daosta è sull'Himalaya praticamente quel paesino lì dove stanno loro ci va comunque la gente ma è un viaggione andarci ci ho messo venti giorni praticamente e vabbè ma sono presa comoda volendo probabilmente ci arrivi in quattro giorni e praticamente lì c'è più nel cimitero di quel posto lì c'è più gente viva che gente morta perché gli monaci vanno a fare questa meditazione sulla morte poi lo vanno a fare anche negli ossari che sono un po' diversi dai nostri cimiteri sono un po' più wild loro alcuni quelli più giovani chiedono di poter partecipare assistere alle autopsie per rendersi conto di come è fatto il corpo umano per avere a che fare con la morte ma questa meditazione sulla morte si chiama meditazione sulla preziosità della vita umana e questa è veramente poesia e ci fa subito vedere qual è il rapportarsi alla morte il tabù della morte ci fa avere paura della morte l'affrontare la morte per renderci conto di quanto è preziosa questa delicatissima vita umana è una cosa importante ecco perché poi tra l'altro è il grande rimosso ma ci arriveremo tutti e saremo impreparati se prima non cominciamo vagamente a renderci conto che è parte della vita bellissimo io farei un applauso la morte e la vita è qualche cosa che potrebbe esserci oltre la vita mi suggerisce una domanda su notti luminosi notti luminose tu che mi proteggi nei giorni migliori dall'alto dei cieli il cielo e la terra però è anche una figura dei capelli cambiavi i colori mentre io cambiavo mille appartamenti mi vedevi costruire labirinti adesso ho capito la spiegazione che hai dato tu ma io ci ho immaginato una relazione come potrebbe essere poi sai le canzoni sei benissimo sono di chi le scrive ma sono altrettanto di chi le ascolta e di chi si costruisce proprio un'appartenenza specifica ci ho visto una relazione con un genitore che ti ha visto fare mille tentativi ti ha visto brancolare nel buio girare a vuoto per esempio che quello potrebbe essere la costruzione di un labirinto quindi da un lato per mia semplice curiosità morbosa se la mia lettura corrisponde in qualche modo anche solo lontanamente con una relazione che potrebbe esserci con una figura che ti protegge dall'alto cioè una figura che ha oltrepassato la vita e con la quale comunque puoi avere una connessione e in generale questa cosa della vita che finisce o di qualcuno che ti proteggere ti può proteggere dall'alto dei cieli nei giorni migliori come la puoi raccontare al di là di come l'hai fatto nella musica ha messo che è proprio voglia di farlo sì sì è proprio è questo che dici tu per me quella canzone è una canzone d'amore dove dall'altra parte non è un amico un amico che non c'è più nel mondo nel mondo terreno e quindi che però dall'alto dei cieli ti lasciano fuori nel viaggio hai perso tutti i documenti e in realtà mi è venuta in mente anche va bene queste vicende appunto normali della vita che però mi è venuta in mente questa opera di un artista asiatico però di cui non ricordo il nome è troppo difficile ricordarmelo sono giorni che sto cercando di ritrovarlo ma adesso devo fare una bella ricerca su internet lui aveva fatto questa opera bellissima erano lui sua mamma e suo fratello il papà era appena morto e hanno scritto era cinese lui e avevano scritto sul terreno in una scritta gigantesca prendeva tipo un campo da calcio qui va tutto bene ed era il messaggio che però loro tre mandavano al papà là sopra e quindi qui questo qui tutto bene del ritornello sarebbe un po' quella cosa lì un rivolgersi per me le canzoni sono sempre un dialogo cioè in un segno di vita che hai descritto bene tu è un dialogo veramente con Dio chi per lui in altri è un tu come se fosse appunto una canzone d'amore una donna un'altra persona amata e poi a me piacciono molto anche le canzoni d'amore per gli amici che anche lì scardinano una regola un po' per esempio io una canzone che ho sempre amato è Oceano di Gomma degli After Hours che poi ho suonato e registrato anche con Manuel e anche da ragazzino mi commuoveva il fatto che fosse al maschile che gli uomini fa molta fatica a dirsi facciamo che tu sia il mio più dolce pensiero cantamano è lì di un amico che tu sia vero però non che tu sia vera quindi è un uomo dall'altra parte e quindi anche Chitarra Nera per me poi va bene lì era più esplicita è una canzone per un amico e anche questa canzone è così e alla fine dice anche questo verso che per me era così importante poi vengono buttati dentro così e passano che era cosa ci siamo scritti in faccia cioè cosa ci restano degli incontri con gli altri c'è qualcosa che ci diciamo ma ci scriviamo anche qualcosa in faccia che mi viene in mente questa mia amica che a un certo punto a 17 anni gli eravamo tutti sai con l'idea del punk eccetera lei si fece un tatuaggio veramente estremo e ha detto così quando invecchio se poi divento una vecchia borghese mi ritrovo questo segno qua che me ne sono fatta adesso e questa roba l'ha trovata veramente punk effettivamente adesso ha 40 anni ha due figli ha avuto uno prestissimo eccetera non è diventata quindi diciamo che però questa gli è gli è servita quindi ha fatto una vita dove non è che vive nei centri sociali però ha fatto tutte delle scelte che probabilmente hanno a che fare anche con la sé di 17 anni anche se totalmente impreviste e però a volte uno si lascia un segno così altre ce l'ha in faccia comunque te lo sei scritto in faccia te lo si legge in faccia e cosa si era tatuata? sai che non me lo ricordo più era una non mi ricordo se era una donna forse con i capelli colorati forse era una una frase tatuata una punk non lo so non mi ricordo più adesso la rivedo quando sono a Bologna viene sempre i concerti adesso con i bambini quando vanno una buona notizia per voi ho un'ultima domanda prima di poter ascoltare la musica l'ultima domanda è relativa all'ultima canzone che è una stagione buona che ha un attacco esplicito ogni anno sono in 400.000 a passare la frontiera la polizia ne ferma a meno 130 quasi ogni ora e in 100 muoiono poi il pezzo prende un'altra direzione però nel movimento armonico ho sentito ho immaginato e se questa cosa qua è tale mi farebbe anche molto molto piacere perché trovo un abbinamento bellissimo un movimento armonico simile al fiume Sand Creek di De André che racconta proprio il massacro Cheyenne del Colorado del 1864 quindi della morte una sorta di Spoon River in qualche modo qualcuno ha fatto anche un'ontologia relativa a Sand Creek della cultura pelle rossa e c'è questo movimento questo canto muto che mi ha ricordato moltissimo il fiume Sand Creek di De André e ti posso anche dire anche sollevando l'imbarazzo che non si parla assolutamente di qualche cosa che vuole in qualche modo emulare qualcos'altro che quella canzone sarebbe benissimo che è cantata De André e come chiusura di album racconta anche del valore e dello spessore di questo di questo tuo secondo album c'è questo ricorimento esplicito no? però ti dico solo che il fiume Sand Creek io mi ricordo benissimo che è la prima canzone che io nella mia vita ho ascoltato di De André da ragazzino molto giovane a casa mia non si ascoltava tanta musica mia ascoltavano solo Mina e Battisti ma poi a casa non c'era neanche il lettore CD o il giradischi e quindi non sono cresciuto proprio in mezzo alla musica però poi all'improvviso ne sono stato attratto e io ho sentito la prima volta il fiume Sand Creek ma da una piccola band che suonava per strada Ferrara e ho sentito questa canzone con questa melodia queste parole che non avevo mai sentito in una canzone e poi finita io ero timidissimo dopo adesso negli anni anche lavorando tanto al bar un po' mi è passata però sono andato appena hanno finito a chiedergli allora secondo me vedono anche un ragazzino domani sono stati ben contenti di dirmi no è De André questa canzone qua perché pensavo fosse loro e gli ho detto cazzo ma avete scritto una canzone bellissima ti poteva avergli detto una cosa del genere ma no no si chiamava De André e quindi da lì ho detto ah De André e poi penso che sia passato dell'altro tempo non mi ricordo più forse non mi ricordo più poi dopo quando è arrivato l'accesso a proprio alla fonte ed è una canzone che amo è rimasta una delle mie canzoni più belle e poi vabbè lui De André è l'emblema per me è il maestro per esempio il mio disco preferito di De André è il suo ultimo disco e in un'arte giovane arrivare all'età che aveva De André che vabbè era giovane perché poi è morto giovane però ha fatto un sacco di dischi e arriva a fare ancora anime salve cioè con la qualità cristallina delle ispirazioni migliore di molti dischi dove appunto dicevamo che all'inizio uno non ha niente da perdere e così e lì e poi si è sempre misurato con la forma canzone quello è molto generoso da uno che poteva fare perdersi dire tanto solo l'intellettuale posso fare quel cazzo che mi pare invece è stato popolare fino alla fine poi magari non lo diceva esplicitamente però lì c'è una generosità e uno sforzo in mano perché poi De Andrè è uno che aiuta mentre sta scrivendo le canzoni perché lui diceva che faceva una fatica bestia diceva che proprio tra l'idea che aveva della cosa che voleva scrivere e però mantenere fedele appunto a quell'idea però entrare nella metrica stare dentro dentro e non perdere però neanche il filo dell'emozione perché sta diventando la settimana enigmistica quindi ha fatto uno sforzo enorme per noi fino alla fine è un lavoro comunque è un lavoro c'è una parte di lavoraccio che poi è bello che sentendola scorra così però però c'è e quindi quella canzone non ci avevo pensato ma in modo subliminale inconscio penso che sia che ci sia dentro di me molto e lì io faccio sempre molta attenzione all'ultima canzone del disco e anche all'ultima frase detta in un disco non è mai messa lì a caso cioè è quella che per me ti rimane negli orecchi e che è una cosa una fissa mia perché poi anche ascoltarsi il disco dall'inizio alla fine è sempre più una rarità però è proprio importante quindi sapevo bene che era lì ed quella lì forse è anche rappresentativa del disco perché è questa canzone d'amore ma che appunto inizia praticamente con un telegiornale cioè è sempre importante per me che ci sia come dicevo prima il mondo che scalcia per entrare dentro alle canzoni un segno di vita grazie grazie infinita a Max Casacci è stato bellissimo grazie e adesso probabilmente possiamo ascoltare qualche cosa un paio di canzoni nella veste in cui sono nate chitarre e voci questa in particolare è per esempio la scritta appunto in mezzo all'oceano poi registrata in un in alta montagna poi mixata in un segno di terra e quindi è passato in varie fasi proviamo un attimo la spia che prima c'erano stati un po' di aspetta intanto apriamola prova 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 sentite esce ok si deformava abbastanza bene prova 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 in questo posto che ti somiglia di pirati di disperati la mare ha lasciato pezzi di plastica di reti messaggi non identificati dove andiamo da dove siamo arrivati per mezz'ora il vento è stato dalla mia parte dici cose contorte nel vento forte che porta via le tue parole come si dice in inglese non mi viene devo ripartire devi ripartire non ci sono cure alternative chissà cosa vedevi quando mi guardavi non mi riconoscevo riflesso nei tuoi occhiali neri chissà cosa volevi per cosa lottavi non te lo ricordi ieri ballavi a piedi nudi sui vetri dei bicchieri vorrei morire qui tranquillo come un animale qui sprecare la mia vita con poco da fare in questo posto che mi somiglia di pirati disadattati all'alba camminano sull'acqua surfisti assanti trasandati torno sul polpo ad ascoltare il vento non ha niente da dirvi l'autobus per l'aeroporto parte non lo prendo per mezz'ora il vento è stato dalla mia parte arriva forte l'odore di fumo di quel bar in fiamme per amore per incassare l'assicurazione per restare tra l'oceano e il deserto in questo buco spazio temporale vista mare non stai più male vista mare chissà cosa vedevi quando mi guardavi non mi riconoscevo riflesso nei tuoi occhiali neri chissà cosa volevi per cosa lottavi non te lo ricordi ieri ripiena di casini e senza pensieri vorrei morire qui tranquillo come un animale qui sprecare la mia vita con poco da fare vorrei morire qui tranquillo come un animale qui sprecare la mia vita smettere di cercare grazie calzeresti un pochino alla chitarra ok il segreto che hai dentro nessuno l'ha scoperto arrivati in un bar mi hai chiesto solo tanto fino a che ora resta aperto fino a che ora resta aperto ma dove sei finita l'amareggiata della vita dove ti ha portate e com'è essere l'unica macchina che esita com'è camminare sola nella sera com'è in che bar in che cinema ti dimenticherai di me portami con te tu prendimi sarà un incendio nelle tue abitudini portami con te accendimi sarà un incendio senza limiti il tuo mondo è una registrazione di scene pericolose di strade tortuose dirette a mete meravigliose montagne scoscese spiagge minuscole rose ma dove sei finita l'amareggiata della vita dove ti ha portate e com'è e com'è essere l'unica macchina che esita com'è cantare sola nella sera com'è in che bar in che cinema ti ricorderai di me portami con te tu prendimi sarà un incendio nelle tue abitudini portami con te proteggimi come un incendio che ci illumini se davvero siamo al mondo solo per osservare il cielo cercare la pace dentro un uragano vedrai ci rivedremo nei giorni del disgelo il tuo cuore sarà un pianeta lontano portami con te tu prendimi sarà un incendio nelle tue abitudini portami con te accendimi sarà un incendio senza limiti portami con te sorprendimi come al ritorno delle rondini portami con te proteggimi come un incendio che ci illumini che ci illumini è un incendio che è un po' di anni fa ma è un po' che non la suono da sola avevo voglia di suonarla fa così sventoleremo le nostre radiografie per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettile costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici scomparsi e viene a vedere l'avanzata dei deserti tutte le sere a bere per struccarti useranno delle nuvole cariche di pioggia vedrai che scopriremo delle altre americhe io e te che licenzieranno altra gente dal call center che ci fregano sempre che ci fregano sempre che ci fregano sempre cara catastrofe le impronte digitali e di notte le pattuglie che inseguono le falene le comete come te tra le lettere d'amore scritte a computer che poi ci metteremo a tremare come la california amore e le nostre camere separate anche a lodare le stelle a dichiarare guerre a scrivere sui muri che mi pensi raramente che ci fregano sempre che ci fregano sempre che ci fregano sempre che ci fregano sempre mentre parecchi facevano l'università alcuni si impiccavano in garage lasciando come ultime volontà le poesie di via mentre parecchi facevano l'università e alcuni si impiccavano in garage lasciando come ultime volontà le poesie di via la tua la tua vita è la tua vita non lasciare che le batoste la sbattano nella cantina della rendevolezza stai in guardia ci sono delle uscite da qualche parte c'è luce forse non sagrà una gran luce ma la vince sulle tenebre stai in guardia gli dèi ti offriranno delle occasioni riconoscile afferrale non puoi sconfiggere la morte ma puoi sconfiggere la morte in vita qualche volta e più impari a farlo di frequente più luce ci sarà la tua vita è la tua vita sappilo finché ce l'hai tu sei meraviglioso gli dèi aspettano di compiacersi in te grazie grazie infinito grazie grazie ancora a Max Casazzi che mi ha fatto questo enorme regalo dove sono registrato come regalo grande Max adesso ci spostiamo in questa sala vi dico solo questa cosa che stiamo facendo un altro un esperimento visto che sto facendo questa si chiama endurance art le performance sulla durata queste sette incontri in sette giorni in sette città abbiamo preparato un quaderno rosso si direbbe per dirla come Jung dove dopo il firma coppia per chi vuole praticamente noi saremo qua poi uscendo vedete un tavolino con questo quaderno rosso e chi vuole può lasciare un segno di vita e lo stiamo facendo in questi giorni ed è bello così ho qualcosa da leggere in treno e creiamo qualcosa insieme approfittandone di vederci di persone grazie ancora applausi grazie a tutti grazie a tutti